Il mar Mediterraneo è in crisi e occorre fare in fretta per evitare la perdita definitiva di specie ittiche che nei fatti significherebbe la fine della pesca. Il tema è stato al centro del convegno che si è tenuto a Siracusa in occasione del G7 Expo Divinazione, organizzato dal coordinamento regionale della rete dei Gall della Pesca. Gian Matteo Panunzi, docente di bioeconomia e presidente Unicop Pesca. Bisogna fare rete, bisogna che pesca e acquacultura, il settore ittico, si integri con gli altri settori e crei sul territorio una governance. La governance deve essere a tre livelli. Un livello è quello europeo in cui va ridiscussa la politica comune della pesca in questo momento storico in cui c'è una nuova commissione. Ci deve essere una governance del Mediterraneo che metta tutti i paesi nella stessa condizione, cioè a giocare con le stesse regole. E poi ci deve essere una governance territoriale, cioè la creazione di aree marine ecologicamente attrettassate, il cosiddetto AMEA, in cui il settore della pesca e dell'acquacultura non può essere più visto come un settore a parte, ma come un fattore di sviluppo delle tre grandi strategie italiane della bioeconomia, del mare e dell'Africa. Giovanni Borsellino, direttore del GALP, il sole e l'azzurro tra Selinunta e Sciacca e Vigata. Noi abbiamo realizzato all'interno dello stand del Dipartimento della Pesca della Regione Siciliana uno spazio espositivo dove noi promuoviamo il territorio e il pescato locale e inoltre sviluppiamo una serie di interventi e di laboratori sulle tematiche della pesca e della Blue Economy. In particolare abbiamo predisposto tre seminari, uno sulla Blue Economy, uno sulle problematiche ambientali del mare e uno sulla gastronomia dei prodotti ittici.